il mio workflow da quando c'è scoreplay è completamente cambiato perché posso pensare molto di più a creare invece che a taggare i giocatori perché se io faccio una foto di Bellinelli o Cordinier o Schenghelia con il logo dietro un logo di uno sponsor dietro come per esempio può essere Segafredo ok io devo solo pensare a fare upload sulla piattaforma il resto lo fa l'intelligenza artificiale quindi dopo pochi secondi sia io vedo la foto o il video già indicizzato ma soprattutto il reparto social o il reparto marketing sono già sul pezzo e possono prendere il contenuto a seconda dell'utilizzo che ne devono fare e questa la trovo una cosa fondamentale perché avere già tutto indicizzato è un guadagno di tempo incredibile che puoi spendere per essere creativo e fare anche altre cose prima dell'implementazione di scoreplay mandare fotografie agli sponsor era un processo abbastanza complicato che partiva la mattina dopo la partita in cui le foto venivano catalogate suddivise e poi mandate agli sponsor che li ricevevano tramite una normale email adesso invece è cambiato tutto perché dal momento in cui la foto viene scattata pochi istanti dopo l'immagine è già all'interno della piattaforma che oltre ad avere una grafica intuitiva e piacevole da utilizzare garantisce al partner di vedere nell'immediato la foto che viene scattata con la visibilità del proprio marchio e questo ha cambiato totalmente la vita del reparto marketing di virtus segafredo ma anche di tutti gli sponsor che adesso possono accedere con grande semplicità ai contenuti e diciamo che anche la loro soddisfazione ne risente in positivo con scoreplay sicuramente il nostro lavoro e nel mio caso specifico il mio lavoro di social media manager ha ridotto notevolmente i tempi questo ha permesso di avere molto più tempo per creare sui social ma anche proprio a livello comunicativo questo perché perché scoreplay ha un alto livello di indicizzazione che permette di andare a ricercare giocatori e sponsor in maniera molto immediata e quindi questo ci permette di avere più tempo per produrre piuttosto che per pensare di produrre e soprattutto nel nostro lavoro verso l'esterno i nostri primi fruitori sono i giocatori i giocatori sono hanno subito riscontrato l'utilità la grande utilità di scoreplay loro la utilizzano principalmente sull'app perché appunto è molto dinamica molto veloce ad utilizzare sullo smartphone e loro immediatamente 5 minuti dopo la fine della partita se non anche addirittura per alcune volte in tempo reale hanno già le foto da poter utilizzare e postare sui propri social sui propri profili social e questo ha anche aumentato la produzione da parte dei giocatori stessi di post sui profili twitter e instagram con contenuti proprio perché appunto anche a detta loro è molto immediato è facile scaricare le trovare le foto scaricare le foto e poi andare a postare scorpelli mi piace molto come app perché è finita la partita già le foto subito su in quest'app e puoi salvarle e puoi subito pubblicare qualcosa